Sei mesi di tempo per chiarire lo stato del procedimento di bonifica, gli interventi fatti da fare, le iniziative di monitoraggio, il perché dei tanti ritardi, le eventuali omissioni e inadempienze. Il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato a maggioranza l'istituzione della commissione d'inchiesta sulle discariche dei veleni di bussi. L'Assemblea ha votato il sì al provvedimento e si sono astenuti i pentastellati per i quali l'iniziativa è tardiva e fuori sede vista la competenza nazionale sulla tematica. La proposta è stata presentata dal gruppo di opposizione di centrosinistra con primo firmatario l'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini. Legnini, indicato come favorito alla presidenza della neonata commissione nel ruolo di sottosegretario all'economia con delega all'editoria alla ricostruzione negli anni scorsi, aveva stanziato circa 50 milioni di euro per la prima bonifica pubblica. Ed è proprio il fatto che Legnini sia il favorito alla corsa alla presidenza che ha causato un duro scontro in aula con il Movimento 5 Stelle, in particolare con la consigliera Sara Marcozzi, anche lei candidata alla presidenza. Il commento sull'istituzione della commissione d'inchiesta da parte del consigliere regionale del partito democratico Antonio Blasioli. Inoltre c'è la richiesta, ci sarà la possibilità di richiedere anche in questa commissione non solo di far partire il prima possibile la bonifica sul SIN, cioè il sito di interesse nazionale, ma anche di incentivare un pochino le risorse a disposizione, se è vero che nella causa civile la Regione Abruzzo e il Ministero hanno chiesto oltre un miliardo di euro all'Aia Addison. Voglio precisare che riguarda un sito dove c'è un terzo dell'acqua del nostro Abruzzo superficiale, come il fiume Pescara, il fiume Tirino, che è affluente del primo e anche di sottosuolo. Quindi insomma un lavoro veramente che ci attende, attende i consiglieri regionali, in particolare i consiglieri regionali della provincia di Pescara che devono delle risposte ad un territorio veramente grande.